L'anagrafe dà uno scarto di generazione, perché da Duranti a noi, insomma, assieme a altrove ne sono passati molti. Al di là dell'anagrafe, comunque, che scolti, ancora resta il critico più giovane che lavora, fondamentalmente, questo è il punto di fondo. Come approccio, come spirito e come energia, forse vanno a rovescianti termini. Grazie. Grazie. A livello dell'università, il problema dell'arte del nostro tempo, dell'arte contemporanea. Poi, studiando, mi sono d'accordo che io sempre con un certo di dati, ma quello è un altro. Però ho apposto il problema di guardare, io ho imparato a guardare l'arte del mio tempo attraverso l'appoggio, diciamo, l'avvallo, confermarmi sull'avvallo culturale di una posizione come quella di Vettuli, che era aperta. Però, non avrei, mi sarei posto nessun problema se non fossi partito da un dato molto preciso e che posso esemplificare proprio attraverso la questione dell'apprezzamento di Vettuli. Cioè, il fatto che, al di là, diciamo, della maturazione problematica sul piano della chiave critica, di cercare la chiave critica, cioè l'intelligenza critica, di capire che cosa un artista vuole, ci vuole un momento di attrazione provocato dalle sue opere. Cioè, io mi trovavo, da una parte, la formazione venturiana per cui la pittura era qualcosa fatta con i coloni, tradizionalmente, sia pure in maniera moderna, nuova, non si voleva, però fatta strumentalmente con i coloni. E dall'altra parte, come è capitato, tramite soprattutto Manucci, che era amico, che era appunto di riferimento per la moglie che era da Roma, io l'avevo conosciuto, Manucci, bene, insomma, e ho avuto un'entrata, diciamo, anche più favorevole. Quindi, allora, Burri, quando al di là delle mostre che si vedevano, soprattutto l'utilizzo, che era una piccola galleria, super raffinata, alcune facevano vedere Burri, mantenendolo un po' abbata, e quindi non rendevano scioccante veramente, sono riusciti ora ad andare a vedere il suo studio, questo grande spazio nel mio salato. Quello era drammatico, effettivamente, perché era una cosa potentissima, ma lì non c'era niente di tutto quello che mi attraeva e mi scuoteva che avesse coerenza con quello che mi aveva insegnato Lenturi, perché io mi dovevo porre il problema di come non fosse pittura, colore, ma fosse materia, materiali anzi. Materiali che erano gli stessi, che si vedevano vicino anche magari di quel tirassegno, dove lui che andato si diventiva sparato, l'altro ho trovato, magari, in alcune aste sono tirati questi affari come addirittura opere. Il primo era un tirassegno, però come il tirassegno era materico come il sacco di Burri, e il sacco di Burri che mi attraeva fortemente era totalmente diverso da un quadro di afro o di corpore di quegli anni lì. Lenturi diceva che il corpo era forse un pittorio europeo interessante intorno a metà degli anni fa, aveva sostenuto affro, eccetera. Allora, questo era il problema. Allora, se non avessi avuto quell'attrazione che mi ha posto il problema di capire perché, cioè perché mi attraesse, me ne rendevo conto, ma qual è la longità di quell'attrazione, non mi sarei posto il problema di capire Burri, di cercare di capire poi il senso di questa promulgazione così forte che c'era nell'abito delle opere del Burri. Quindi in realtà, di là del problema di metodo, occorre una sorta di... l'inizio è un film o qualcosa, se no lo trovo poi, questo è quello che fanno. E questo ti pone poi all'esigenza di creare gli strumenti per capire, naturalmente devi creare e poi verificare, perché uno può anche invocare il tutto, voglio dire, perciò devi fare degli scontri, delle cose, insomma, non a caso poi ci sono tanti riferimenti. C'erano quelli di dirle a Suini, che adesso non ho visto al dato, per tanti versi, l'ho sentito anche dalla Messina alla radio, per esempio, quelle cose che sono mostrate dell'opera del museo, e mi dico, se è il museo nazionale, è come se a quello non ha capito niente. Suini ha dato un'interpretazione forte, presidia di Burri, attraverso l'attuale io ho detto, beh, insomma, questo è il senso di quello che mi attrae. Però se una cosa non attrae, allora uno è un utai, voglio dire, appunto rispetto agli utai, che sono ottimi con le insomma. Grazie. 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 Applausi. Grazie. Grazie.